Siamo qui con il presidente del Montagnola, Bastesin, grandissima vittoria sia nel risultato sia nel gioco. Com'è stata viverla e com'è stata la partita? Abbiamo fatto in passato anche altre prestazioni così importanti, però ci è mancato sempre il gol. Anche stasera per sbroccarla ci ha aiutato una deviazione, abbiamo fatto fatica a realizzare il primo gol, però finalmente la partita si è messa in maniera tale che potevamo anche ripartire noi ogni tanto in contropiede. Ripeto, ci è mancato nelle precedenti partite in alcune occasioni proprio l'ultimo passaggio. Stasera abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che ci ha permesso di sbloccare la partita e l'abbiamo portata a casa, veritatamente, credo. Primo tempo dominato, anche il secondo. Grandissima risposta del Montagnola qui per le prossime gare. Questo è l'atteggiamento? L'atteggiamento assolutamente sì, ripeto, ci abbiamo messo quel pizzico in più stasera perché ci sono state partite in cui francamente avevamo espresso un gioco simile a quello di stasera, ma non eravamo riusciti mai a concretizzare. Tant'è vero che sullo 0-0 qui abbiamo avuto un'opportunità clamorosa, l'abbiamo mancata anche quella, è stato proprio il simbolo che ci ha contraddistinto in questi primi quattro mesi di campionato. Finalmente siamo riusciti a sbloccarla e penso che meritatamente l'abbiamo portata a casa perché insomma abbiamo tenuto bene il campo tutta la partita, abbiamo rischiato pochissimo. Complimenti ancora e in bocca al lupo. Grazie, crepio.